La storica battitura o la spollinata sono solo alcuni dei grandi eventi di Ponteburiano frutto del lavoro e dell'impegno dell'associazione Cric composta da tanti giovani che si impegnano per sviluppare le iniziative nello splendido scenario di Ponteburiano. L'associazione nei giorni scorsi ha visto rinnovare le cariche. Il presidente è Renato Viscovo, suo vice Giacomo Cannoni. I consiglieri sono Elena Ducci, Gualberto Gualdani, Maurizio Lumachi, Sauro e Stefano Nucci, Angelo Palazzini e Roberta Rossi. Sicuramente continueremo con l'andare avanti e proseguire nel modo corretto, più chiaro, sicuramente, e continuare a far divertire le persone che frequentano il Ponteburiano, continuarli a far stare bene e soprattutto ampliare una cultura generale, con eventi che attirano un po' entrambi le età, sia giovani che un po' di età più avanzata. Dopodiché ci concentreremo sul posto, sul rivalutare il posto, sulla bellezza che è appunto Ponteburiano e tutto ciò che lo circonda come il parco e ciò che lo arricchisce durante tutta l'estate. Tre progetti futuri, quello della valorizzazione del Ponte della Gioconda e del Museo Pietro e Laretino. Sicuramente cercheremo di aumentare turismo qui a Ponteburiano e soprattutto un'evoluzione a livello culturale che ad oggi abbiamo solo qui nel museo dedicato a Leonardo e Laretino e sicuramente con la cooperativa cercheremo di divulgarlo al massimo. Ma soprattutto nella cooperativa cercheremo una cosa che voglio sottolineare e cui si basa da 40 anni fino ad oggi a livello sociale che bisogna sicuramente basarci su questo perché il sociale è importantissimo. Noi abbiamo 150 soci in questa cooperativa e bisogna cercare di essere più trasparenti possibile non solo ai solo 150 soci ma anche a tutto il paese sia quello di Ponteburiano e quello di Cincelli.